Abbiamo presentato la Fabbrica del Rinascimento, la prossima grande mostra che dall'11 dicembre partirà in Basilica Palladiana. Abbiamo ripreso con le mostre in Basilica, mostre importanti, la ripartenza passa anche da un motore, quale è quello del culturale, che ci permetterà di dare grandi soddisfazioni turistico-culturale anche alla nostra città. La grande mostra, la Fabbrica del Rinascimento, è da oggi in realtà. Da domani si può prenotare i biglietti in prevendita, è attivo il sito, sono attivi tutti i social. Vi aspettiamo numerosi per una mostra che sarà davvero una grandissima scoperta.